Ciao ragazze, allora benvenuti in un nuovo video, questo qui sarà il topo della settimana ovvero il vecchio top of the week, un poco rivisitato infatti in questo video troverete sia i 5 prodotti top della settimana che gli usati della settimana quindi io e Federica, perché questo video è sempre in collaborazione con Federica, Derry Bruno qui su Youtube che vi linko giù nell'info box il suo canale ne approfitto per mandarci un bacione grandissimo io e Federici sentiamo tutti i giorni, è una ragazza davvero speciale e gli mando ancora un bacione forte vi stavo a di che praticamente in questo video troverete raggruppati sia i 5 prodotti top della settimana sia gli usati, perché sono due rubriche che avete apprezzato molto non mi voglio perdere in chiacchiere e vi faccio vedere cosa ho utilizzato ovviamente il mio progetto smaltimento prodotti in questo periodo è andato un poco all'aceto nel senso che tornata dal Cosmoprofo ho voluto provare un pochettino i vari prodotti che ho preso perché sapete io sono super super curiosa, quindi i prodotti che mi ero prefissata di utilizzare per terminarli non li ho utilizzati, ma non ci posso fare nulla cioè ero troppo curiosa di utilizzare i prodotti presi al Cosmoprofo comunque inizio con i 5 prodotti top e per primo vi faccio vedere questo qui il correttore di Maybelline, il Fit Me questo qui è la tonalità 10 che come ben sapete l'ho acquistato al banchetto magico che per chi non sa cosa è il banchetto magico è una bancarella che viene al mercato da me porta tutti i prodotti buoni e di marca e i prezzi variano dai 3 ai 5 euro adesso 7 perché i prodotti di MAC li ho messi a 7 euro nulla, mi ci sto trovando divinamente non lo consiglio però alle ragazze che hanno un'occhiaia pronunciata perché a me per dirvi me le copre benissimo e mi illumina il viso che è qualcosa di spettacolare però alle ragazze che hanno un'occhiaia più marcata lo possono utilizzare soltanto come correttore illuminante ma come correttore correttivo e coprente non ve lo consiglio a me copre e illumina però non ho una grandissima occhiaia quindi lo trovo davvero molto molto buono per me e lo consiglio perché ha un'occhiaia meno pronunciata come la mia non è quello che indosso questo è quello della Lioll che sto testando comunque lo adoro davvero è stato il mio alleato fidato quando sono arrivata in fiera che non avevo dormito niente ho messo su lui e sembravo bella, radiosa, stupendo davvero stupendo mi ci sto trovando divinamente pagato 3 euro è davvero un super super affare poi un altro prodotto che sto amando è la BB cream della Lioll questa qui è la super gold snail ha un SPF 50 e questa qui secondo me vi ripeto ha anche la bava di lumaca all'interno perché sull'oro de Plihan c'è disegnata su questa linea qui di prodotti una lumachina quindi penso ci sia anche la bava di lumaca ma è davvero fantastica vi faccio vedere il colore perché nell'all non ve l'ho fatto vedere questo è il colore come potete vedere non è bianchissima cioè sono BB cream che si possono adattare tranquillamente alla vostra tipologia di pelle guardate è super super coprente super idratante ha un odore paradisiaco davvero vedete quanto è coprente davvero fantastica si stende divinamente e mi idrata tantissimo il viso che avendo diciamo la pelle secca è un toccasana per me ecco questo è il prodotto steso come potete vedere ha una coprenza paurosa e questa qui l'ho pagata 7 euro in fiera prezzo fiera perché penso su internet in generale costa un pochettino in più però vi assicuro è davvero stupenda ottima 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 e questa qui per chi è interessata è la 23 warm beige il packaging è specchiato si vede pochissimo comunque il numero 23 poi altri due prodotti top sono due prodotti della collection professional che mi sono piaciuti tantissimo ero indecisa se inserire questo o gli ombretti o shimmer però diciamo i loro mascara non li avevo mai provati e quindi ho voluto inserire lui perché sui mascara sono molto diffidente per dirvi il mio mascara diciamo preferito è stato in questi in questi anni il Pupa Vamp le Love Extreme di Essence e ultimamente il Leish Mania Reloaded tutti gli altri mascara che ho si mi piacciono ma niente di eclatante mentre questo qui mi sta piacendo tantissimo si chiama Mega Volume della collection vi faccio vedere lo scovolino vedete il packaging ha praticamente i dentini e i lati che sigilla bene il prodotto quindi non vi va diciamo a seccare il mascara una tipologia di packaging che mi piace molto questo è lo scovolino come potete vedere è a forma di pino è in silicone e questi dentini vedete praticamente districano perfettamente le vostre scie vi danno un effetto volume fantastico ha un nero super super intenso mi sta piacendo tantissimo davvero non fate caso adesso che ho le scie finte su però con le scie naturali l'effetto mi piace tantissimo davvero super come mascara e costa se non erro 3-4 euro niente di eclatante ha non dice quanto prodotto c'ha però davvero ottimo e poi ho messo lui un altro rossettino matt della collection professional questo qui è lo 08 ed è un nude bellissimo davvero bellissimo chiunque me l'ha visto su mi ha fatto i complimenti perché vedete è un nude pescato rosato molto molto bello ha una durata eccezionale davvero vi ripeto vi ne ho già parlato fino alla nausea dei rossetti matt della collection sono davvero favolosi e costano solo 4 euro per le ragazze che mi chiedono sempre della collection quando sarà online io ho parlato con Roberto che diciamo fa parte insomma dello staff della collection e mi ha detto che stanno facendo le prove tecniche sul sito quindi presto sarà online ho chiesto perché voi volete sapere giustamente vi faccio vedere questi prodotti che non sono reperibili se non per le ragazze che hanno il punto vendita vicino quindi non vi preoccupate perché anche io sto aspettando che il sito è online perché voglio prendermi qualche altro ombrettino shimmer perché sono davvero di una qualità eccezionale adesso poi ve li andrò a far vedere a breve continuo con l'ultimo prodotto top ed è questo illuminante della P2 che ho trovato nella box diciamo nella pochette della P2 tra i vari omaggi ed è bellissimo non mi aspettavo davvero un illuminante così bello né l'effetto che dava sul viso si ho detto molto carino il packaging perché porta la spugnettina di silicone sopra e poi è fatto tipo stick come quelli di Kiko quelli di Wicon no quelli fa pure benefit se non erro però non mi aspettavo una resa del genere vi faccio vedere vedete che figo è stupendo stupendo lascia un effetto glow sul viso spettacolare io lo adoro non è quello su che ho non è quello su che ho non è quello che ho indosso questo qui è quello di blooming della collezione blooming di essence vi devo fare anche un video haul perché giorni fa mi è arrivato un pacco dalla mia amica mare vi faccio vedere cosa mi ha mandato una pazza tutte cose meravigliose comunque questo è il prodotto di P2 vedete come si sfuma bene con questa spugnettina è favoloso cioè io trovo veramente il primo applicatore utile della storia cioè non è la classica da spugnetti inutile che mettono da tutte le parti pure nelle palette con gli applicatori inutili questo qui mi sta piacendo tanto infatti lo applico sempre con il suo lo sfumo sempre con il suo applicatore perché l'effetto è davvero bellissimo e adesso vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato di più nella settimana allora vi faccio vedere altri tre prodotti di collection ma raga io li ho utilizzati cioè non ci posso far nulla e vi faccio vedere il 23 un bellissimo umbertino shimmer della linea pearl silky touch questo me l'ha consigliato Carmela l'avevo visto in un suo video ed è stupendo vi faccio uno svolso spettacolare ha una scrivenza spettacolare vedete cioè non ci sono parole per descriverlo top davvero top e questi hanno un costo se non erro di 3-4 euro sempre infatti non vedo l'ora che apro il sito perché me li voglio comprare altri perché i colori sono davvero molto molto particolari e il numero 15 che è questo bronzo ramato particolarissimo vi faccio vedere da notare la scrivenza sembrano pigmenti pressati non ho parole davvero stupendi hanno una durata eccezionale con scusate se guardo perché dopo devo prendere la salvettina hanno una durata eccezionale con il primer mi piacciono tantissimo davvero hanno una resa ottima 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 lo stesso vale per il blush che ne ho voluto provare uno ed è il powder blush fard compatto il numero 7 questo qui è il nuovo colore che hanno proposto in fiera se riesco ad aprirlo magari ve lo faccio vedere è un colore molto molto particolare ed è quello che ho su è bellissimo mi sta piacendo tantissimo questo è il colore il blush rispetto agli ombretti è meno scrivente fortunatamente perché se no vi facevate insomma una ciazza di colore vedete questo è il blush bellissimo colore ha una colorazione diciamo abbastanza invernale però se lo sapete dosare lo si può utilizzare tranquillamente anche in estate questo colore raga un secondo solo che mi pulisco perché sono indecente con tutti questi swatch e vi dico la verità mi sono trovata davvero bene costano davvero pochissimo i loro prodotti e sono di qualità ho avuto modo di provare anche altri prodotti oltre quelli che mi hanno mandato e devo dire che sono davvero buonissimi e per il prezzo che hanno ve li straconsiglio poi vi faccio vedere le cia finte e la colla questa qui è un nuovo acquisto allora le cia finte sono quelle che ho su però faccio prima a farvele vedere ovviamente le ho tagliate e queste qui le ho comprate dal sito buy in coins ci ha messo un bel po' ad arrivare però mi ha stupito innanzitutto l'imballaggio che ha questo sito perché fa davvero a prova di urto c'era attorno a questo diciamo scatolino con le cia finte non so quante quanti fogli di pluriball davvero un ottimo ottimo imballaggio e queste qui sono le numero due le zero due che ho pagato un euro e cinquanta un euro e ventiquattro addirittura non mi ricordo sono le zero zero due sono davvero super super confortevoli perché vedete l'attaccatura è fatta di nylon da un filo di nylon praticamente e sono super confortevoli sull'occhio non si sentono proprio non hanno la striscettina di plastica rigida nera ma hanno questo coso di nylon che favorisce anche la pulizia delle ciglia in maniera ottimale vabbè che la colla questa qui della Peggy Sage è davvero ottima e costa pochissimo costa 3,90 euro questa sempre me l'ha consigliata Carmela del canale non fashion in beauty ed è la colla per ciglia finte nera della Peggy Sage davvero ottima aderisce subito ci attacca subito buona 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 davvero e quando voi andate a pulire le ciglia finte la colla se ne viene tipo a pezzi cioè tipo biadesivo con la pinzetta voi le andate a tirare e se ne viene proprio tutto il biadesivo e vi lascia la ciglia finta l'attaccatura insomma delle ciglia finte è pulita quindi davvero ottimo ottima colla e ottime le ciglia finte carina anche la scatolina con il cuore e ho utilizzato tanto questi prodotti in particolare li ho utilizzate nel fine settimana ma mi stanno piacendo tanto sto cercando di essere un pochettino più pratica con le ciglia finte e nulla questi due prodottini qua e come ultimi tre prodotti vi mostro il primer viso della liol questo è un primer illuminante stupenderrimo ve lo faccio vedere ne metto pochissimo perché è veramente molto molto scrivente vedete ed è fatto di un ed è un rosa perlato bellissimo vedete lascia questo alone luminoso molto molto bello io l'ho utilizzato sia a solo come primer sia mescolato con la bb cream della liol sia mescolato con i vari fondi e vi assicuro che l'effetto è davvero super questo l'ho preso sempre in fiera l'ho pagato 5 euro ed è il blooming shimmer per base la liol vi ripeto mi ha detto la tipa la potete trovare su amazon o su ebay però non ha lo prezzo fiera insomma però i prodotti davvero ragazzi sono ottimi 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 di qualità magari se hai trovato un'asta con i loro prodotti non lasciatevela scappare perché sono ottimi sono rimasta stupita devo dire la verità e poi ho utilizzato anche questo fondo della peace lash velvet è un fondo mattificante l'azienda è polacca credo e devo dire la verità non è male anche se al secondo posto porta la paraffina non ha un incidiamo perfetto per quello che ne capisco so che la paraffina fa male vi faccio vedere il prodotto la particolarità di questa azienda che mi ha stupito è che tutti i loro prodotti all'interno contengono l'olio d'argan che è un che è un diciamo un elemento che io adoro infatti mamma che odore ha un odore paradisiaco questo fondo questo è il fondo come potete vedere l'effetto matt lo fa cioè davvero molto molto bello e io l'ho utilizzato anche mescolando il primer di Liole e fa un effetto molto molto carino a parte l'odore paradisiaco che vi lascia sul viso che è qualcosa di spettacolare ma mi sta piacendo davvero tanto vi lascerò giù nell'info box al limite il link del sito di questi prodotti oppure vabbè quando vi faccio la review di questi due prodotti ve lo lascio giù nell'info box comunque è davvero bello come fondo ha un odore paradisiaco mi è rimasto ancora un po' qui ha un odore paradisiaco e ve lo straconsiglio poi come ultimo prodotto ho utilizzato la palettina di BH Cosmetics la adoro è la It's Judy Time ed è una palette spettacolare come potete vedere l'ho utilizzata abbastanza in particolar modo questa prima fila qui e oggi ho utilizzato insieme al pigmento di La Splash questo colore qui che l'ho tamponato sulla palpebra mobile devo modificare questa linea di liner mi si è mosciata è ottima davvero ottima mi sta piacendo tantissimo questa palettina qua è bellissima e sono contenta di averla acquistata per soli 7 euro e niente ragazze questi sono stati i prodotti più utilizzati della settimana io vi mando un bacio forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao